Si rinnova anche quest'anno a Pordenone l'appuntamento con Scienza Art Ambiente, in programma dal 28 al 30 ottobre nel convento di San Francesco in Piazza della Motta. Assessore Claudio Cataruzza, quali sono le novità di questa 19esima edizione di Scienza Art Ambiente? Partendo da un'analisi dell'eccellenza del nostro sistema scolastico territoriale, faremo un programma incentrato sulla didattica che vedrà molti laboratori didattici con i ragazzi delle scuole, ma anche con i genitori e con i docenti e poi ci saranno degli appuntamenti di grande rilievo con scienziati e studiosi per un pubblico più ampio come si era fatto nel corso degli altri anni. Puntiamo a diventare il principale festival italiano riguardante la didattica. Giunta alla 19esima edizione, la manifestazione del comune di Pordenone e di immaginario scientifico cambia la sua guida e rinnova il comitato scientifico, ora composto da Sveva Veduto, Serena Mizzan e coordinato dal filosofo della scienza, docente all'Università di Milano Bicocca, Stefano Moriggi. Quali sono quest'anno gli ospiti di Scienza Art Ambiente? Sono tanti, è difficile tenerli in una risposta e sono oltre che tanti importanti. Cito Roberta De Monticelli che chiuderà il festival con un interessantissimo intervento sulle dimissioni di Socrate. Ci sarà Umberto Curi che terrà un seminario certo rivolto ai docenti ma aperto a tutti coloro che vorranno approfondire le dinamiche dell'essere e del diventare maturi. E poi ci sarà Roberto Maragliano dell'Università di Roma 3 squadernando al pubblico le possibilità aperte dal digitale per una nuova vita, anzi per nuove vite del libro. Questi sono solo alcuni degli appuntamenti ma significativi del tenore del programma di quest'anno. Programma completo e aggiornato nel sito comune.pordenone.it slash scienza artambiente.